Oggi Capitano Conte è riuscito ad intercettare Silvia Godelli, l'assessore regionale alla cultura. Buongiorno. Buongiorno, ma non è difficile intercettarmi? No, perché lì è sempre per strada nel senso che la investo della nomina di sindaco di Bari per un giorno. Lo so che è difficile, però dovesse avere anche i soldi per fare determinate cose, illimitati, risorse illimitate. Cosa farebbe per i suoi primi due giorni a misura di bambino? Non raccolgo la minaccia di fare il sindaco di Bari neanche per un'ora. Destinerei un'area importante per una serie di attività connesse, che siano di natura culturale, siano anche di carattere formativo. Uno spazio ideale per laboratori può e deve essere rappresentato dalla caserma Rossani. Lo dico non per caso, perché lì anche il finanziamento sarebbe disponibile. La Rossani è uno spazio immenso, aperto, chiuso, con verde e così via, nel cuore della città, con una vocazione sociale e culturale, tra virgolette naturale, dovrebbe essere anche il luogo di una cittadella dell'infanzia accanto a tante altre realtà importanti che lì si possono allocare. Grazie Assessore. Grazie a voi. Grazie a voi.